buongiorno buongiorno guardate un po' che bel maschione dai capelli che pulisce il bagno ma sei bravissimo grazie amore mia che mi stai aiutando vero che mi stai aiutando a bambina si stai collaborando felice dai allora io pulisco di qua quando hai finito poi mi chiami ok io pulisco di grazie a tutti ma quanto sei bravo grazie amore guardate un po' che precisione tutto politissima mamma ho fatto un ottimo lavoro si amore mio c'hai ragione sono molto felice lo sai se mi aiuti è una cosa bellissima si che collabori ora ti va di fare un'ultima cosa ti va ad aiutare mamma a fare un'ultima cosa che cosa manca da fare nel bagno cosa manca da pulire pulire che cosa la doccia ti va di pulire la doccia allora per prima dobbiamo tirare fuori tutti i shampoo il bagno schiuma ok che c'è è paura di bagnarti ehi vieni qua mamma ascoltami ma ti va di farlo o no se non ti va mi dici mamma non mi va mamma non mi va non ti va di farlo non mi va sicuro sì ok allora quindi dobbiamo tirare fuori tutte le cose che stanno lì prendile tutte le cose che stanno per terra ecco le mettiamo tutte quale le poggiamo qua bravissimo questo bagnetto più comodo per te qua da questa carta che ho usato prima la butto ok ok poi che cosa manca adesso che cosa dobbiamo fare dobbiamo prima bagnare con un po d'acqua ok quindi apri l'acqua e bagna tutto con l'acqua ok apri forte l'apri e tu che cosa apro che io ho paura dell'acqua hai paura dell'acqua allora vediamo un po ecco dai non c'è bisogno di avere paura non fa niente l'acqua che è più forte l'acqua o tu? sono io e allora l'acqua sono più forte di te io lo posso? eh? come si dice? acqua non d'acqua che io sono più forte di te acqua guarda che io sono più forte di te eh sì brava ho paura dell'acqua perchè hai paura dell'acqua? eh? non c'è bisogno che cosa abbiamo detto prima? abbiamo detto che tu sei più forte dell'acqua vero? mh allora se tu hai ma l'acqua è fredda non ci posso andare dall'acqua fredda ho paura dell'acqua fredda è fredda l'acqua ma quindi ho paura devo stare e qua non vuoi stare dall'altra parte e chiudere la porta così? eh? sei tu che comandi l'acqua lo sai che sei tu che apri qua guarda? sei tu che comandi sai perché? perché tu prendi apri decidi di aprire decidi di chiudere ok? sei tu che decidi quindi sei tu più forte ok? quindi quando tu vai dentro quando hai paura chiudi vero? provami ma l'hai fatto tu non ho capito l'hai provato tu adesso l'ho provato io? certo ma per farti vedere adesso vuoi provare tu? dai ehi dai provaci che tu sei fortissimo bravo dai che sei fortissimo pure dai no come lo? eh? ti faccio vedere eh? faccio paura la mettiamo calda l'acqua allora per lavare con l'acqua calda va bene? allora vai caldo tu metti l'acqua calda come si fa a mettere l'acqua calda? me la insegni tu va bene allora e guarda fai attenzione perché te l'ho detto tante volte eh guarda ti mette dalla parte sinistra esce l'acqua calda ok? adesso è troppo calda per esempio quindi puoi girarlo verso il centro ok? troppo calda senti tu senti tu con la manina vediamo se ti va bene così l'acqua oppure no com'è? va bene va bene così? ok adesso entra entra non ti devi bagnare tu devi bagnare solo i vetri guarda bravissimo vedi che non succede niente quando hai paura prendi e chiudi ok? e poi ci riprovi bravissimo bravo Cristian hai visto? che non succede niente? ok adesso cosa ci puoi fare? cosa puoi mettere? metti al detersivo? vuoi mettere questo? vai spruzza con questo vieni te lo passo da qua oh oh vai prego oddio mi stai sparando mi stai sparando oh che bravo questo figlio wow ok adesso apri l'acqua ok sto pulendo guarda che è pulitissimo non c'è bisogno di continuare a ripassare col pannetto è proprio pulitissimo lo so che tu sei un perfezionista ma adesso tanto ci bisogna aprire l'acqua perché altrimenti tutto il detersivo rimane incollato sullo specchio sul vetro scusa capito? dai apriamo l'acqua adesso vai sei pronto? ehi apri l'acqua adesso apri l'acqua piano piano senti se ti piace se è caldo com'è? ti piace? ok bravissimo hai visto che non c'è bisogno di avere paura? che bello ecco e ora che cosa facciamo? per asciugare l'acqua per togliere tutta quest'acqua bravo fino a giù fai un colpo unico guarda da su fino fino a giù parti dall'alto e finisci quando arrivi in bas dall'alto verso il basso come si fa? fino a giù bravo ecco così fai un po' di esercizi sicure no su e giù si fa solta si parte sempre dall'alto e si finisce verso il basso poi stacchi e riparti dall'alto e poi verso sì sì c'è il microfono c'hai? fammi vedere Cristian Garcia sta dentro la sala da registrazioni stai nello studio di registrazioni fammi vedere il microfono pronta? mi canti una canzone nello studio di registrazione? sto pulendo ormai sto pulendo ormai del tipo lasciami finire il mio lavoro mamma mia ma che precisi occhi questo pino lo sai che sono molto felice che mi stai aiutando? che stai collaborando si dice vero? non so perché tutte le persone che abitano dentro casa devono collaborare poi non solo devono è una cosa bellissima collaborare vero? ognuno fa qualcosa lo sai che sembri un ragnetto mi dai un bacio attraverso il vetro? ci diamo un bacio attraverso il vetro vai vai bacio un bacio di qua un bacio bello bacio grazie a tutti grazie a tutti